Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di Biara Finanza Smart Education School. Con questo mio breve video volevo così fare una considerazione in questa giornata del 27 giugno 2024 ore 9.36 per quanto riguarda una analisi e per quanto riguarda sempre Bitcoin. Ma andiamo a vederlo insieme perché è importante così confrontarsi su dei dati. In questo caso di questo analista Aurelien Ohayon in cui vedete che secondo ovviamente il suo parere, che può essere smentito come è successo in diverse situazioni, è come una fase di breakout, vedete, botto breakout, vedete che i vari cicli per quanto riguarda Bitcoin si ripetono nel tempo e addirittura l'obiettivo è a 250.000. Quando, come, accadrà, non accadrà. Chiaramente il mio è una riflessione, un'analisi semplicemente di carattere storico e ciclico come dimostra in questo caso diciamo il grafico. Quello che volevo farvi ragionare è quanto il tempo diventa importante da questo punto di vista perché qua potete vedere naturalmente all'inizio della storia eravamo intorno a qualche centesimo di valore, è passato il tempo. I cambiamenti epocali come quello di Bitcoin, signori, non si esaurisce, non si afferma, non diventa diciamo bene comune, come vorrei dire, in qualche giorno, in qualche mese, ma ci vuole del tempo, ci vuole degli anni, soprattutto perché dal mio punto di vista, ma credo che sarete d'accordo, è una questione di carattere culturale, di conoscenza, di consapevolezza, di studio, di comprendere cosa c'è dietro questa piccola innovazione, diciamo, dell'apparenza, ma grandissima nella sostanza. Lo sanno naturalmente persone importanti come Michael Seo di MicroStrategy, lo sa Larry Fink, l'amministratore, il CEO di BlackRock, piuttosto che Fideliti, piuttosto che tutti gli altri grandi protagonisti, players, come si dice, nel mondo finanziario tradizionale, che hanno guardato con estremo interesse quello che è il fenomeno Bitcoin, ma soprattutto quello che sarà nel prossimo futuro. Si sbaglierà, eccetera, assolutamente, diciamo che nel futuro non ne abbiamo certezza, ma così volevo lasciarvi con un augurio di una buona giornata a tutti voi e con questo grafico e con queste piccole considerazioni da parte di un appassionato formatore, nel mio caso, in ambito blockchain, in ambito soprattutto Bitcoin e del mondo delle criptovalute, del valore digitale, per potervi aiutare a comprendere determinate dinamiche e anche determinate testimonianze, in questo caso, di questo ragazzo che ha fatto la sua previsione per quanto riguarda il prossimo futuro di Bitcoin. Vi ringrazio di nuovo l'attenzione e se ci sarà qualcosa di interessante sarà a mia cura sempre aggiornarvi. Buona giornata ancora a tutti. Bye bye.